oggi è il 17 aprile 1961 1500 esuli cubani approdano alla Baia dei Porci 1975 Icmer Rossi occupano la capitale Phnom Penh 1956 nasce Ray Sugar Leonard commenta il fatto del giorno Sandro Neri direttore del Il Giorno oggi parliamo di Bedigno Zaccagnini e con lui anche di una vicenda emblematica della nostra storia recente che è il caso Moro